salve a tutti qua la fabio oggi c'è un nuovo video sbaravata in tempo stai quasi la faccia volevo innanzitutto sponsorare un canale youtube che è la mia passione che si chiama eros casa sua tradizionale lancio i link in descrizione una grande persona merita tanto insomma vedeteci un po di preparazione bianco grazie come il rasoio usiamo il 34 chd lo armiamo con le cai grazie ok con il pennello da genite fuoco tasso taglio un attimino a fuoco qua qua sui bianco e sapore Grazie a tutti. 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 So cool. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E poi... il... e poi... ci sta... mi sono... e... la... e... e... la... e... 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 in... e... ...